Mi hanno chiesto, da voi allo studio Gayatri, alle lezioni di yoga, bisogna venire vestiti di bianco e assolutamente non di nero poiché il nero ha vibrazioni negative? La mia risposta è, di che colore sei dentro? Un giorno bianco, un altro giorno nero, un altro ancora verde, blu, giallo, rosso e quanto è bella, limpida, meravigliosa la possibilità di essere ciò che si è, sia dentro che fuori. Il settarismo lo si nota anche da queste cose, tutti devono vestirsi obbligatoriamente di un solo colore e quelli vestiti con altri colori sono da deprecare e marginare. Una cosa è invitare una persona depressa a vestirsi di variopinti colori, si sa l'esterno può aiutare l'interno, ben altra è tacciare di negativismo coloro che si vestono con abiti scuri e soprattutto pensare che il nero e i mani vibrazioni nefaste. Eppure chi insegna yoga dovrebbe sapere che non è l'aspetto esteriore a caratterizzare l'essere umano, bensì quello che si ha nel cuore. Da qui l'insegnamento per esempio del Vangelo, non quello che entra nella bocca dell'uomo, da fuori contamina l'uomo, bensì quello che esce dalla sua bocca, dal dentro. A voler significare che fuori puoi apparire bianco, pulito e lindo, ma se dentro sei così fondamentalista da immarginare coloro che si presentano ad una lezione di yoga vestiti di nero, forse è meglio che, anziché insegnare yoga, sia proprio meglio prima imparare che cosa lo yoga è, cioè tutto ciò che unisce anziché dividere. Grazie a tutti.